Sono state ritrovate a Malta Martina Sciliberto e Angela Curro, le due ragazze fuggite da Gansirri nel primo pomeriggio di sabato. Solo una bravata che ha fatto vivere ore di angoscia a famiglie e amici. Voglia di evadere due giorni, libertà di raggiungere una loro conoscenza a Malta. Questo è il motivo della loro fuga. Dopo la denuncia dei genitori le ricerche erano scattate immediatamente. In pochissimo i militari dell'arma erano riusciti a ricostruire gli spostamenti da Gansirri a Catania dove Martina aveva inviato l'ultimo messaggio alla mamma dicendole di non cercarla. Agganciando la scella telefonica i carabinieri erano così riusciti a scoprire che l'SMS era partito dal comune etneo. Poi il silenzio. Fino a ieri sera i genitori delle due ragazze non riuscivano a mettersi in contatto con le figlie. I telefoni cellulari risultavano spenti o irraggiungibili. La disperazione della madre di Martina ha inondato le baghe che di Facebook. Grazie a questo un agente di viaggio ha dichiarato di aver venduto alle ragazze dei biglietti aerei diretti a Malta. In tarda serata il messaggio di una delle due tranquillizzava le famiglie. Sono a Malta con la mia amica non ti preoccupare abbiamo già fatto il biglietto di ritorno. Le giovani avevano raggiunto il paese straniero nella tarda serata di sabato da Catania con un volo a Air Malta.